Tempo incerto sulla costa dove però non si rinuncia alla Pasquetta. C'è chi ha organizzato una gita, chi preferisce una passeggiata in spiaggia. L'importante è passare la giornata fuori casa. Traffico sostenuto in A14, in tanti sono usciti al casello di Termoli. Dove siete diretti per Pasquetta? Campo Marino, Lido. Come passate la giornata? Dobbiamo fare una bella brace. Siete voi in famiglia o vi aspetta qualcuno? No, ci sono i nostri amici che ci aspettano. Campo Marino. E dove andate? Casa nostra. Da dove venite? Genzano di Lucania. Quindi passate una giornata al mare? Una giornata al mare. A Campo Marino ci facciamo una bella brace con un po' di pizza stamattina e passa la paura. Da dove venite? Da Foggia. Una giornata in famiglia o vi aspetta un amici anche? No, gli amici sono già passati. Tutti a Campo Marino oggi? Tutti a Campo Marino. Venite là che ci trovate là, un po' di carne pure a voi. Passeggiata in centro al borgo per le famiglie, mentre la spiaggia non ha avuto il boom degli altri anni, anche se le comitive di ragazzi non mancano mai. Di dove siete? Campo Basso. Come siete arrivati? Con il pullman e poi prendiamo il treno per arrivare a Campo Marino. Il treno? Sì, un treno, vabbè un pullman praticamente, però la stazione. Come vai andate a Campo Marino? Abbiamo la casa lì per fare qualcosa. Quindi passate, cucinate voi, preparate voi da mangiare? Sì, si facciamo tutto quanto noi. Io vengo da Ghana, io sto in Italia quasi 6-7 anni, quindi... Dove vivi? A San Severo. Io oggi come... Oggi che giorno è oggi? Pasquetta. Pasquetta, quindi io ho approfittato per uscire con mia famiglia e poi amici. Facciamo prima un giro qui sul castello, poi magari andiamo al parco a mangiare. Quindi pranzo al sacco? Pranzo al sacco. Abbiamo preparato già qualcosa, un po' di pasta fredda. La foggia. Passate la giornata al mare? Sì. Pranzo al sacco o andate da qualche parte? Al sacco. Come passate la giornata? Beh, rimane un altro po' qua, siamo fino verso l'Etre, c'è una passeggiata verso il centro e poi andiamo a riprendere il trino per foggia. Approfittiamo della vera giornata, speriamo. Da dove venite? Noi viviamo a Roma, ma siamo molisani. Quindi siete tornati qui per le festività? Siamo venuti a salutare nonni. E se, come tradizione vuole, ci si organizza per il pranzo con qualcosa di già pronto, ci si mette a cuocere carne alla brace, in tanti hanno preferito sedersi a tavola, magari con vista mare. A Calasveva oggi, in occasione della Pasquetta, abbiamo preparato un menù strutturato, fatto di diversi antipasti caldi e freddi, un primo con seppia e crema di piselli, un trancio di rombo e un buon dolce con fragole e gelato alla vaniglia.